Eccoci qua, buongiorno a tutti, argomento molto delicato sul quale sarò senz'altro criticato, però io dico quello che penso. Cappottino per il cane sì o no? Io sono assolutamente contrario, anche perché secondo me amare qualcuno, in questo caso amare il proprio cane, vuol dire rispettare anche la sua natura, rispettare proprio la sua natura. E non è nella sua natura quello di indossare un cappottino, anche perché questo lo infaccerà, lo limiterà molto la comunicazione degli altri cani, anche se non tutti saranno in grado di percepire i segnali che il cane ci manda, i segnali del disagio. Oltre a questo comunque stiamo parlando di un cane che ha il derma sensibile, quindi nelle zone ascellari, nelle zone delle anche, potremo andare a crearli proprio dovuto allo sfregamento delle irritazioni, quindi io sono assolutamente contrario a quello del cappottino, tranne i soggetti anziani o con particolari problematiche. Cioè il cappottino al cane non serve, tante volte va ad accontentare dei nostri bisogni, delle nostre voglie di umanizzare il cane, che è la peggio cosa che possiamo fare se noi vogliamo veramente bene al cane, perché per volerli bene, per poterlo amare, come si deve, dobbiamo rispettare quella che è la sua natura, quindi io sono contrario ai cappottini. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.